Ehi, che vuoi? Pronto, voglio andare a casa. Petamesh, il principe, il palazzo, ti suona? Bello che ci fai fuori, non ti ho neanche visto uscire. Nella terra dei mini-mei, si stanno preparando tutti... Fate presto! ...per il ritorno di Arthur. Ma qualcosa sta per accadere. Che cos'è? Qualcosa tra le zampe? Oh, mio Dio. No, no, i mini-mei mi hanno contattato, sono in pericolo. Hanno bisogno di me. Sono pronto. Avante, tirate! Più forte! Prendiamo! Solta! Sai guidare questo coso? Sarà facile come guidare una zanzara. ... ... ... ... ... ... ... Sì!